Da lunedì 25 maggio 2020 riapriranno finalmente le palestre e i centri sportivi. Da 15 giorni riapriranno anche i teatri e cinema, oltre ai centri estivi per i bambini e i ragazzi, come annunciato da Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio Italiano, in conferenza stampa. Nelle palestre la distanza minima interpersonale è stata fissata però a due metri. Quindi è raccomandato contingentare gli accessi anche attraverso l'utilizzo di prenotazioni per evitare che ci siano assembramenti. Per i centri estivi sono privilegiati le attività all'aperto, un aggruppamento fisso dei bimbi, una disinfezione dei giochi e un numero fisso di bambini per ciascun educatore. In spiaggia bisogna essere osservato un distanziamento tra gli ombrelloni in maniera da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ombrellone tutte le attrezzature dovranno avere una distanza di almeno un metro e mezzo e gli stabilimenti dovranno effettuare regolarmente, in maniera frequente, la pulizia e la disinfezione di tutte le aree comuni, quindi anche azzardo delle superfici. Tutte le attrezzature andranno disinfettate ad ogni cambio di persone o un lucro familiare. Novità per le spiagge libere e sicuro che con la comanda ai clienti di rispettare una distanza di sicurezza minima garantita di un metro ed è consigliata la presenza di un addetto alla sorveglianza. Perfetto. Detto ciò, grazie a tutti. Il video termina qua. Spero di essere saluti. Iscrivetevi e commentate. Al prossimo video. Iscrivetevi al prossimo video.